Questa è la storia di Peter Parker, un nerd talmente perdente che perfino le cesse sfigate gli negano il posto sull'autobus. Essendo ovviamente orfano, vive con i vecchi zii, l'amorevole in carta pecorita zia May e zio Ben, un ex elettricista che si lamenta di essere stato mandato in pensione a 68 anni. Per lo stesso motivo, se fosse italiano, starebbe invece stappando bottiglie di champagne da offrire a tutto il vicinato. Durante una gita, mentre Parker stava fotografando il maglioncino verde presepio di Mary Jane, la ragazza che gli piace fin dalla prima asilo, un ragno geneticamente modificato lo morde e questo gli cura la miopia e gli fa venire un fisico che a te non verrebbe manco dopo due anni di palestra e diete a base di petti di pollo e bianchi d'uovo. Nel frattempo, anche il padre di un suo amico, il miliardario Norman Osborn, subisce un piccolo restyling. Si inietta infatti un vaccino anti-covid di sua invenzione, che accresce le sue potenzialità, ma gli toglie la sanità mentale. In pratica quello che è successo anche ad Alba Parietti dopo gli innumerevoli interventi di chirurgia plastica. Peter a scuola stende e umilia con facilità il bullo che lo tormenta. Così la ragazza che non l'aveva mai cagato nonostante fossero vicini di casa, improvvisamente inizia a cagarlo. E lui, per impressionarla, decide di comprarsi una macchina. Ma anche il catorcio meno caro è comunque troppo per un pezzente come lui, perciò decide di sfruttare le sue nuove capacità per darsi al wrestling dilettantistico. Nel frattempo, suo zio viene ucciso da Max dei Fichi d'India e gli spara un mega pippone in punto di morte. E mentre scopriamo che Zia May ha un modo tutto suo di vivere un lutto grave e che il padre del miglior amico di Peter preferirebbe Peter al suo stesso figlio, il crimine si arpeggia a New York. Ma Peter chissà come si è procurato un costume in spandex da supereroe e affronta questo crimine nei panni dello stupefacente uomo ragno, quando non è appeso a soffitti e muri a fare i suoi sopralluoghi per controllare se reggono le strutture architettoniche della città. Nel frattempo si reinventa anche fotografo per vendere le foto di se stesso ad un quotidiano locale, gestito da uno degli uomini più affabili della città. Ma la vera minaccia è Goblin, un terrorista in armatura verde che semina il panico senza un ben precisato motivo e che altri non è che Norman Osborn impazzito. Da principio il verde folletto propone a Spider-Man di stringere un'alleanza fra loro in quanto esseri superiori, per metterla poi in quel posto a tutti i cittadini. Un po' come quando il Movimento 5 Stelle si è alleato al PD. Solo che, diversamente da quanto succede in Italia, questa cosa nei cinefumetti era assurda anche solo pensarla. Così Goblin si incacchia e si rifà sulla vecchia zia. Il giovane però può sopportare di avere una faccia un po' da fesso, può sopportare di recitare la parte di un personaggio che ha sempre avuto gli occhi marroni, anche se lui ce li ha azzurri, può sopportare che il suo migliore amico si metta con la ragazza della quale è innamorato da una vita senza manco diglielo, ma non può sopportare che si faccia male alla zietta, perciò va a vendicarsi di Goblin, il quale è veramente uno stronzo. E dopo un'epica scazzottata durante la quale Spider-Man sembra avere la peggio, il cattivo finirà trafitto dal suo stesso aliante proprio lì, in zona Zebedei. Quindi, al funerale del padre, suo figlio Harry, l'amico di Peter, dichiara la sua eterna amicizia a Peter, ma dichiara anche il suo odio più totale verso Spider-Man. E Peter pensa, mo sono cacchi. Come se non bastasse, Mary Jane finalmente dichiara a lui tutto il suo amore e gli infila mezzo metro di lingua in bocca, completamente incurante del fatto che siano al funerale del padre di un loro caro amico, ma fa niente. Però Peter, per proteggerla da eventuali future minacce e nemici di Spider-Man, è costretto suo malgrado a frianzonarla. E mo sono cacchi moltiplicati per dieci. Fine! Ma come sempre, prima di chiudere, un saluto e un grazie a tutti i miei Patreons. I Cavalieri d'Oro, Luciano Repetto, Il Signore del Selfie, Luca Di Leo, Gervis, Gerardo Crotti e Andrea Ghisi. I Cavalieri d'Argento, Davide Vaiani, Giuseppe Dovidio, Pietro Alemanno, Gianluca Chasseur, Federico Piana e Stefano Fusaro. Un saluto ovviamente anche a tutti i Cavalieri di Bronzo e ci vediamo alla prossima. Ciao!